Grazie mille, vi volevo presentare i miei musicisti, che non sono miei, sono di se stessi. Oggi hanno suonato con me, vi ringrazio personalmente molto perché erano in giro per il mondo a fare il loro mestiere e sono venuti a posta perché il premio Tenco è la cosa più bella che c'è in Italia e bisogna farlo, bisogna, è un dovere, noi lo sappiamo, è un dovere, piacere, il nostro, Marco Calusina, siamo tutti fratelli, siamo tutti fratelli. L'altro mio fratello è Giovanni Ferrari. E ultimo, ma non ultimo, il bellissimo tastierista maledetto, Mel Gertz. Vi saluto con il profumo di Bergamotto, con l'aipone. Bergamotto, no? Come disse Terminator, la come disse termine. Fortissimo, Morgan, fortissimo, prelumpis da frutto a tre secondi. Grazie. 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 Qualcuno tornerà per amarti tutti i giorni Per dirti che la vita è un gioco in mezzo ai prati Che il tempo non ha fine Quando vivi per qualcuno Qualcuno tornerà Per amarti tutti i giorni Per amarti tutti i giorni Per amarti tutti i giorni Che qualcuno tornerà Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.